Allora, buongiorno Jacques, avevo due domande, la prima per quanto riguarda abbiamo visto il Millennium Stadium, nel Catanzan, i calciatori, hai già scelto chi calcerà domani? Ci sono delle particolari indicazioni per sapere chi calcerà tra Mirko e Barton? Poi mi trovate molte cose del centrale. Sarà Mirko Bertamasco che va a calciare? Le due hanno fatto il calcio, hanno bene calciato, ma credo che è migliore che Mirko inizia, perché non ha la pressione delle due o tre partite prima e per Chris che ha un ruolo difficile, sarà migliore per lui di avere la consaltazione su tutta la partita senza questa pressione. Seconda domanda, abbiamo visto dei cambi nella formazione rispetto alle altre partite, ci sono ancora questi esperimenti che vanno verso il lungo termine per trovare le giuste combinazioni, ma sono anche delle combinazioni per la partita contro la Scozia, cioè già per trovare magari una formazione stabile nella partita contro la Scozia che è quella che alla fine vogliamo provare a puntare a vincere. È vero, ma non è tutto vero, perché ci sono cambiamenti che sono in rapporto all'ultima partita, che è il secondo tempo dell'ultima partita, che non è qualcosa che non posso essere un riferimento. e dall'altra parte sono cambiamenti che sono in rapporto all'infortunio e alle possibilità di scelte. E sono ancora due o tre giocatori che non abbiamo visto ancora e che vogliamo vedere prima nella fine dell'ottorio.